Salve a tutti. Questo sarà una delle recensioni più brevi. Parliamo dell'onorevole scolaro John Le Carré, un libro del 1977, passo nel 2001 in Italia. Un libro di spie, l'ho comprato perché è ambientato in Indocina, che è un po' uno dei miei interessi più o meno letterari. Sono arrivato al 9%, non solo in termini di pagine, ma al 9% del libro. E devo dichiarare, e lo dichiaro a tutti voi, che questa sera abbandono la lettura di questo libro. Ho pagato, credo, abbastanza poco un ebook, non so se l'ho preso con un'offerta, proprio riesco ad andare avanti, non si capisce assolutamente niente. Una confusione proprio assoluta, proprio non mi piace. Credo che non leggerò mai più, ma ovviamente, mai dire mai direte voi, ma sono abbastanza convinto e credo che non leggerò mai più libri di John Le Carré. Mi dispiace per gli appassionati di quest'autore. Buonanotte. Buonanotte.